Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono io, io, mi sono accorta oggi che era tornato in circo su Adopt Me E se devo fare, sarà proprio ora Perché volevo aprire con voi due casse Due casse, adesso mi ha fatto cucciare sto azzarte Poi vedete questo di S, guardate qua, ora lo sto vedendo E ci stanno vedendo il deserto, non lo capisco Va bene, vedete che vuoi aprire lì proprio E là, là, là Guarda di male E poi non lo devo aprire dopo Adesso io volevo toppare via Nooo, venite, andate Mi sono andato a tornarsi indietro, benissimo Salutami, dai Andiamo Cammino proprio con i coltelli Vabbè, che ora devo aprire un attimo da arrivare a mia sorella Perché sono andato a noi Il zotapetico è qui da due settimane E non ci aveva giocato Quindi è un uomo di pest Ti vengo? Non faccio andare da un vestito, da un vestito niente vieni qua dalla parte rossa guarda io potevo comprare pure un desert tag solo che non ve l'ho saputa prendere perchè volevo vedere come erano stai uova come me li faccio il tibà ok poi io lo faremo schiudere mi è venuto l'ho rosa ecco qui non mi va agitare aspettate è chiuso? provai a fare il silo bione si è rezzato tre volte si è rezzato cinque giorni l'evento nooo non terminare le scarpe si è messa mia sorella sa quale vento è che l'evento sta proprio qui bene raghi siamo con una si vede tutto non provenire che a me servono le drollare i miei riferiti si vede appoggiata ti supplico a essi nooo ho preso i miei soldi per nulla no ragazzi voglio fare mia cappuccina fare mia cappuccina io non parlo inglese se si ma poco 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 soldi io ho fatto un bacco Quando i bari stanno, dove hai le banche da darmi? Ci passano scoppiare le banche? No! Mi servirebbe! Mi servirebbe! Colori corpo! Vediamo un po', io ho fatto storia! Ma perchè sei una schiglia? Lei? Si! Non lo ricordo! Quello bravo tipo! Tu sei la prima di bari! Spera, attenzione! Non ho idea! Lei o no? Robot! Ragazzi aveva una seconda! Io che giocare con te? Che non devi mai! Non mi servo mai! Ma quello? Sei tu quella che ti ha levato! E io che andavo un attimo dei casi! Sì! Sì! Ho trovato! Guarda! Io ti vedo! Ci appacco! Eh sì che mi vedi! Sì! Ma sei fatto! Come sei fatto! Come sei fatto! Sì! 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 Non c'è più la sia! Super Sai! Super Sai! Super Sai! Sì! 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 sono arrivati ho arrivato a guardare le tante non sapevo che era sotto il torino è sotto laura non c'è Facendo due lavori Forse c'era un po' Per fare Quarissiti 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 Ragazzi No, c'era in giustizia Stavo lavorando, eravo quasi Arrivati a 240 E mi si chiudo Non ci credo Ragazzi Non ci credo Ci stavo qua C'è giusto Non ci credo Vabbè prendiamo Cosa può volare Vai da copter 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 Può volare di Adoptimi Pure tipo Pesso Robby Vado a gioco Guardate con Robby Guardate Capiato Lo posso Il tubo Quel tubo Ti spiace Mi piace Vabbè Non ci vuol dire A dormire Vabbè Non ci vorrei Vabbè Non so Non voglio Non voglio Non voglio Non voglio No Vabbè Vabbè C'è la porto Lo stesso Vabbè Vabbè Mi viene più A presto Mi viene più Va bene Abba Tipo Uno Si ha fatto A giorni Uno Un giorno Eh No Andai a scuola Ma ti Bacют sono aperte ragazzi eh vabbè andiamo prima a scuola alla fine ragazzi per esempio io sono arrivando al costello andiamo a lavorare mi sono proprio presa le bevande io ieri sera l'ho caricato tu mica si è pensato io scrivo il mio tablet ultimo una colla poi spegnetola e guai non ho ancora imparato i numeri al mio robot ho pure l'altro robot robbie si robbie l'ho imparato no il mio robot 257 euro raghi ho deciso di lavorare in pizzeria comunque vi farò vedere quando avrò finito di lavorarci e vediamo come la soglia oh yeah oh yeah oh yeah